Venditalia 2024 continua, ci troviamo allo stand di Salumificio Fratelli Beretta S.P.A. e Piatti Freschi Italia. Siamo in compagnia di Enrico Farina, il responsabile marketing dell'azienda. Caro Enrico, bentornato. Grazie, grazie mille. Allora, intanto, prima di andare a chiederti che cosa presenta Fratelli Beretta Piatti Freschi Italia in questa occasione, facciamo un riepilogo di un minuto, se possibile, dei 212 anni di storia del Salumificio. Sì, in effetti è difficile pensare al 1812 data di fondazione di questa azienda e normalmente per far presente questa data parliamo di Napoleone Bonaparte. Nasce in Brianza questa azienda come laboratorio di trattamento Carni per circa un secolo. Continua questa attività e comincia a svilupparsi nel primo dopoguerra con una dimensione un po' più industriale. Il vero salto viene fatto negli anni 60 quando l'attuale nostro presidente insieme a Fratello capiscono l'importanza dell'avvento del nuovo canale distributivo che è la grande distribuzione. E quindi cominciano a lavorare i salumi in maniera differente, non solo il salume intero ma apporzionato, lavorato, affettato, cubettato. Questo comporta una rivoluzione in termini di trasporto, in termini di conservazione e in termini di vendita, quindi facendo marketing. Oggi siamo arrivati ad avere 30 stabilimenti, oltre un miliardo di fatturato e una quota rilevante sia in Italia che all'estero. Davvero un gigante in Italia per la produzione di alimenti. E oggi a Venditalia 2024, che cosa presentate al pubblico della distribuzione automatica? Beh, abbiamo moltissime novità. Partendo dall'assortimento che già avevamo negli anni scorsi, abbiamo provveduto a una restilizzazione, quindi abbiamo rifatto la veste grafica di tutti i nostri tramezzini, di alcuni panini, ma abbiamo presentato anche molte novità. Partiamo appunto dai panini, che vengono presentati in questo caso con una grammatura un po' più leggera, 80 grammi. Nuova veste grafica che si avvicina molto a quelli che sono i packaging che troviamo in grande distribuzione per cromia e per grafiche, in assortimento con i principali salumi, quindi stiamo parlando di prosciutto cotto, di prosciutto crudo, di salame Milano, di mortadella Bologna IGP. Altre novità riguardano sempre il salume, salume che viene presentato sotto forma di rollé, di rolls, come li chiamiamo, li chiamiamo snack rolls, insieme a formaggio. In questo caso stiamo parlando di un prosciutto crudo, di due tipologie di salame, uno Milano e l'altro Bresaola, e di un salame piccante, tutti accompagnati sempre da un tipo di formaggio normalmente neutro per accompagnare la seppidità del salume. Parlando invece di snack, altro cavallo di battaglia dei nostri prodotti nel mondo vending, non possiamo fare a meno di citare i salamini, salamini che sono sempre stati presenti nei formati tradizionali, presenti anche in grande distribuzione, ma da quest'anno hanno due nuove tipologie di prodotto pensate appositamente per il vending. Si tratta del classico formato da 60 grammi salamini classici più taralli, che vengono però confezionati in un astuccio che consente la monospirale, quindi estremamente comodi per le nostre vending machine, così come per invece il formato pocket, che è un sacchetto monoporzione da 27 grammi, estremamente pratico per il consumo individuale. Alla fine dobbiamo comunque parlare anche di piatti pronti, abbiamo presente in assortimento una selezione particolarmente mirata di primi piatti e di secondi piatti, che anche in questo caso hanno subito un importante restyling grafico, avendo una confezione decisamente più impattante e più accattivante. Beh, insomma, avete davvero lavorato tantissimo per andare a proporre in questa occasione tantissime referenze. Enrico, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile entrare in contatto con voi per richiedere maggiori informazioni, contattare un vostro agente e quindi diventare vostri clienti e poter inserire nei pochi casi in cui ancora non accade i vostri prodotti, anche quelli nuovi, nei distributori automatici dei gestori italiani? Beh, al di là di quelli che sono i nostri referenti commerciali, penso che la cosa più facile sia utilizzare info, chiocciola, fratelliberetta.com come punto di partenza per poterci contattare. Enrico Farina, responsabile marketing di Piatti Frischi Italia, fratelli Beretta S.P.A. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.